Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È stata anche l'occasione per vedere una bellissima Caramanico innevata. L'incontro di ieri in municipio della Presidente della Regione Marco Marsiglio, nel centro termale abruzzese, al momento fermo dopo il fallimento della società che gestiva l'impianto. E anche e soprattutto per confermare la qualità e la quantità della portata delle acque che sono in buona salute e in grado di garantire nuove erogazioni. Nonostante i due anni di stop, alla vigilia della scadenza dell'avviso di vendita, all'asta fallimentare per strutture, terreni e beni immobili dello stabilimento termale, sono stati presentati i risultati delle indagini ricognitive sulla consistenza delle sorgenti delle acque minerarie. Era importante, anche con molto sollievo e soddisfazione accogliamo questo studio che abbiamo commissionato per verificare se le acque minerali presenti a Caramanico avessero conservato nel tempo la stessa consistenza e soprattutto la stessa qualità. La conferma è positiva, c'è la stessa quantità di acqua, della stessa qualità, esclude questo studio qualunque tipo di inquinamento, è stato fatto uno studio molto dettagliato e peraltro la cosa che dà ulteriore conforto è che gli studi sono stati fatti con strumentazioni tecnologicamente molto più avanzate e quindi anche molto più sensibili degli studi fatti l'ultima volta, una decina di anni fa, che avevano dato però sostanzialmente risultati analoghi se non addirittura completamente sovrapponibili, quindi è una buona notizia per Caramanico e per le sue acque minerali. Questo studio ci sta anche suggerendo di fare una possibile verifica se in profondità non dovessero emergere anche delle acque calde che darebbero diciamo alle prospettive termali di Caramanico una vera, una ulteriore svolta. Ora l'obiettivo è aggiudicare la gestione delle terme in tempi rapidi. Noi adesso nei prossimi giorni daremo subito, abbiamo subito la domanda dagli uffici lavoreranno per emettere l'avviso pubblico per la coltivazione mineraria, cioè per poter sfruttare le acque e su quello metteremo anche una premialità evidente per chi è in grado di sfruttare queste acque nel più breve tempo possibile garantendo quindi la ripresa delle attività termali a Caramanico che non è obbligatorio svolgere per forza nell'antico, nello storico impianto, per il quale in parallelo il Tribunale sta facendo, il Tribunale fallimentare sta facendo la gara, scade in questi giorni la prima asta, tutti noi speriamo che già dalla prima asta possano arrivare manifestazioni di interesse e risposte da parte del mercato anche se sappiamo che non è facile.